salve a tutti ancora quattro chiacchiere con l'handicap in compagnia di Michele e questa volta prima di partire voglio salutare Michele Cesari e soprattutto coloro che collaborano con noi ok che ci danno una mano ci permettono ogni volta di andare in onda e ci permettono anche di informarvi grazie a tutta la redazione e comincerei oggi voglio parlarvi di un progetto nato in regione io perlomeno sono entrato in questo progetto nel 2012 nasce da un concetto favoloso di vita cioè si prende coscienza e si dice ok ma l'assistenza a livello domiciliare una bella assistenza è ordinata e bella però bisogna fare in modo che sia il disabile a poter scegliere anche magari qualcuno vicino a lui che gli da una mano in tutto una mano non è vero senza parola una colf e viene proposto questo progetto che ha il nome di vita indipendente noi all'epoca ci eravamo riuniti con la dottoressa bernacchia la quale è stata la promotrice insieme ad altri colleghi che adesso io non ricordo il nome sempre della regione di questo progetto che puntava a migliorare e fare come dicevo prima no a migliorare la vita ma migliorare proprio la condizione fisica e morale della persona tant'è vero che per me al primo incontro al comune di cività nuova marche fu una cosa grandissima ritrovarmi discutere con la dottoressa bernacchia e l'assistente sociale eh di cività nuova marche e notare di quale passo avanti avesse fatto la regione in maniera incredibile ed è quella che poi parlavo nella puntata precedente quando dicevo la politica che si fa carico di alcuni problemi veramente grandi non hanno non l'hanno diffuso molto perché i primi anni era un qualcosa quasi sperimentale ci speravo tanto questo lo devo dire che il progetto andasse avanti e oggi che siamo al 2021 non solo è andato avanti quindi sono nove anni ma ha fatto anche delle migliorie e progresso nel progresso quello che dico io voi dovete sapere che noi abbiamo la possibilità attraverso un contratto fatto da diversamente abile di avere un incentivo ben preciso non dico gli importi per una questione di privacy di rispetto di tutte quelle persone che usufruiscono di questo progetto e mi pare ingiusto però dico ciò che ha creato nella mia vita ma credo che sia anche nella vita di molti di noi che hanno che hanno questo questa possibilità in primis è avere sempre comunque vicino in una mezza giornata circa una persona che ti accudisce quindi che ti dà una mano per lavarti fare la barba vestirti e magari se deve andare anche in un negozio viene con te insomma ti dedica una mezza giornata non è una moglie non è nemmeno un assistente non so come dirvi è una bellissima autonomia che ci ha reso la regione con questo progetto meraviglioso questo progetto che va a a liberare la coscienza di noi diversamente abili e farci diventare protagonisti di noi stessi cioè abbiamo la possibilità di scegliere la persona che più eh ci aggrada per quello che riguarda la pulizia per quello che riguarda tutto ciò che è il personale non fate i birbi che capite cose che non dovete capire eh parlano sempre di assistenza mi mi raccomando è un'assistenza scelta da noi perché vedete se c'è una cosa che io ho notato spesso per quanto noi abbiamo dei servizi bellissimi abbiamo dell'assistente domiciliari che i comuni gli assistenti sociali si impegnano attraverso delle cooperative che fanno un gran bel lavoro però che succede che se io ho bisogno di un assistente e mi viene una ragazza faccio un nome qualsiasi che non non è un nome reale ma che si chiama Marilena e con questa ragazzi comincia a costruirci anche se magari solo per tre ore un rapporto un rapporto che è quello che eh ti fa compagnia per un paio d'ore se c'è bisogno ti cambia se ti deve lavare ti lava eh quelle che sono le mansioni che di cui ha bisogno una persona per sempre che sta in carrozzina tante volte che non può muovere le braccia è tutto ok perché vedete quelle persone quando cominciano a cambiarti fanno parte della tua intimità quindi ti cambiano il pannolone ti ti fanno star pulito ordinato e tutti ci abitui e diventa come fosse una madre una sorella interpretate come volete voi però pensate che magari si ammala un assistente che fa delle ore ad un altro diversamente abile e a quel punto deve sostituire e magari risposta la mia la manda lì e a me me ne dà un'altra per qualche qualsiasi motivo ed è una cosa signori che provare per credere è tanto negativa perché perché a quel punto eh arriva un'altra persona che io non conosco che comunque deve lavorare con me e e soprattutto deve fare pulizia anche alla mia persona e quindi la vergogna nelle parti fisiche il sentirsi signore brutto quando arriva qualcuno e deve avere una parte della tua intimità che tu non conosci che tu vedi per la prima volta manca la persona che veniva prima è un tipo di scompenso che psicologicamente nessuno tiene conto anche perché tanti diversamente abili neppure parlano eh e no io ne ho il caso perché qui come c'è un bambino Matteo che dà nome alla nostra associazione eh che fa proprio quello non può parlare non può comunicare di conseguenza chiunque va lì lo cambia gli leva il pannolone ma noi non sappiamo lui dentro di sé come sta non sappiamo se sta male non sappiamo nulla però siccome non parla tutto va bene questo è un criterio detto da me sia chiaro eh non è non ha nessun valore nei confronti delle cooperative che svolgono un bel lavoro che già ho detto prima però su queste cose loro hanno hanno una carenza involontaria ma c'è invece con il progetto vita indipendente hai la possibilità di avere la tua persona che ti segue e viene remunerata dalla regione attraverso noi e quindi già qui è una cosa grandissima perché è un contratto normale di lavoro la persona che lavora con te ha una parte contributiva regolare ha delle buste paghe regolari e viene molto più volentieri e tu sei molto più sicuro perché la persona è quella è quella e noi abbiamo avuto anche un caso di un purtroppo un mio carissimo amico che ha preso il covid e chi l'assistiva ha preso il covid con lui quindi vedete per dire proprio che è una scelta non solo della persona che ti accudisce ma è una scelta anche morale cioè io quando ho fatto ho preso la mia decisione ho scelto la persona che com'è finché il progetto in piedi e vivrà nel senso che non mi lasci è un progetto veramente grande fatta una regione Marche e tra l'altro ci fu un periodo che pensarono anche a un progetto ministeriale insieme a quest'altro regionale e lo pensavano perché qualcuno di noi e svolge dei lavori e quindi avevano pensato in maniera bellissima e i più vivi complimenti nella regione Marche di farci dare una mano nel lavoro perché tante persone come me non riuscivano a svolgere il proprio lavoro e quindi davano un compenso a chi collaborava con noi praticamente faceva le veci nostre lavorava fisicamente perché con la testa ancora ci riusciamo e lo dico prima che altri mi prevengono no e quindi è stato un progresso enorme non è stato molto pubblicizzato molte persone non sanno non sanno che esiste tutto ciò bisognerebbe che ognuno di voi avesse un attimo di tempo parlo della regione Marche di andare nel proprio comune di residenza e farsi spiegare dai assistenti sociali come iscriversi al progetto di vita indipendente per avere più dignità per avere più come vi posso dire ragazzi più libertà più libertà ed economicamente date soddisfazione a chi lavora con voi che lavorerà bene vi terrà molto meglio vi farà sentire in tutti i sensi più uomini più persone è veramente un progetto bello che la regione continua ad andare avanti ormai da nove anni e sta migliorando di volta in volta e credo che abbia ancora voglia di migliorarsi sempre di più quindi io non faccio altro che al momento ringraziarvi invito tutti ad andare sui propri comuni regione Marche ok a chiedere del progetto di vita indipendenza come iscriversi quando iscriversi e vedrete che gli assistenti sociali saranno per voi delle buone guide è stato un discorso un po' complicato perché mi trovo meglio a parlare di altre cose però questo valeva veramente la pena perché è proprio un movimento fatto da persone normodotate della regione Marche ed è un progetto che cammina ormai da nove anni in una maniera incredibile sono corretti ogni anno si dà il resoconto alla regione si dà il resoconto perché la regione giustamente vuole vedere ciò che uno spende vuole vedere i contratti fatti per le badanti o per le colf come volete voi come uno desidera e allo stesso tempo ti lascia la più grande libertà di azione nel senso che decidi se vuoi far venire chi ti deve aiutare il pomeriggio la mattina c'hai quelle 25 ore settimanali che tu le utilizzi ed è una cosa grande badate bene i numeri sembrano piccoli ma in realtà quando poi si va a fare i conti con la vita questi numeri che sembrano piccoli sono grandissimi non solo per noi ma anche per l'autonomia della famiglia anche perché se qualcuno vi porto un esempio semplice eh tua madre tuo padre tua moglie eh deve andare a fare la spesa ecco con te c'è qualcuno il progetto si chiama vita indipendente è il progetto della regione Marche questo sia chiaro tutti quelli della regione Marche che ancora non usufruiscono vadano nei propri uffici nei propri comuni scusate di residenza presso l'ufficio delle assistenti sociali e chiedete o dell'ambito anche loro sanno come funziona chiedete informazioni per iscrivervi e certo adesso non so se sarà proprio per tutti tutti però intanto provate a fare domanda provate a iscrivervi perché se ciò si avvera avverete un sogno di autonomia e di libertà e soprattutto avverete un sogno dove finalmente i politici hanno pensato una parte più debole di società veramente complimenti alla regione Marche e veramente complimenti alla dottoressa Bernacchia a quale vanno i miei cari saluti e alla sua collaboratrice Alessandra Bigoni quindi un saluto a loro che stanno facendo un lavoro stupendo per la regione un saluto a tutta la regione Marche e un saluto a tutti voi che mi ascoltate ciao a tutti alla prossima ciao ringraziamo i nostri spettatori per il tempo che ci hanno concesso e vi invitiamo a continuare a seguirci sui nostri canali facebook e youtube ringraziamo i nostri spettatori per la regione